ciao ragazzi io sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi vi farò conoscere questa torcia tattica della sua firme è il modello if 22 a una torcia che permette di raggiungere ben 2.100 lumen con una potenza regolabile sia così in modo graduale che a step cosa la sua firme di particolare per cosa mi piace di queste torce tattiche il fatto che effettivamente siano costruite molto bene e fatto che abbiano un'ottima luminosità vero mancano tanti fronzoli che troviamo in altre torce manca la custodia insomma mancano alcuni particolari ma se ci interessa avere una torcia tattica luminosa che ci permette di illuminare anche da lontano con una luminosità grande angolare allora questa per esempio può fare per voi pensate il suo prezzo è 57 euro ma vi lascerò un codice di sconto del 30 per cento che ve la farà pagare 39 euro e 90 40 euro non mi ricordo di preciso comunque davvero un ottimo prezzo per una torcia costruita bene che ha una ottima luminosità adesso quindi la metteremo sul bancone vi farò vedere le varie funzioni che ci permette di ottenere con la pressione del tastino con diverse combinazioni e vi farò vedere anche le riprese in esterno rimarrete sbalorditi dalla sua luminosità soprattutto a questa cifra quindi che dire iniziamo e guardiamola e allora ultimamente mi state vedendo sempre più spesso utilizzare amazon per farvi vedere la recensione quindi ciò che dice la gente dai prodotti che vi faccio conoscere perché le mie parole possono essere credibili però vederlo anche scritto nero su bianco con le recensioni lasciate dai clienti è già un'altra conferma quindi abbiamo 164 recensioni praticamente tutte positive ci sono solamente un paio di recensioni con quattro stelle ma 164 recensioni che confermano che questa torcia funziona bene per me è una garanzia del fatto che questa torcia ad acquistare ad occhi chiusi adesso guardiamola per bene ma prima vi faccio vedere quello che troviamo all'interno di questa confezione consiste in una semplice scatolina all'interno troviamo il caricabatterie per poterla ricaricare usb di tipo c degli o ring di ricambio perché anche impermeabile un taglio andino il manuale di istruzioni e ovviamente la nostra torcia ricordatevi quando la comprate di rimuovere un pezzo di plastica che è messo nella parte posteriore altrimenti non riuscirete ad accenderla perché serve proprio ad evitare il contatto con la batteria quindi batteria 21.700 da 5.000 milliampere ora e a proposito di batteria viene dato in dotazione anche questo accessorio che ci permette di utilizzare la classica batteria 18 650 nel caso in cui volessimo utilizzarla a posto dell'originale si inserisce in questo modo e si utilizza ma noi guardiamola con la sua batteria quindi avvitiamo la parte posteriore e continuiamo a guardare il resto della torcia in pugnatura con questa zigrinatura antiscivolo clip che ci permette di utilizzarla in entrambi i versi quindi infilando da questa parte oppure da quest'altra parte andando ancora più verso l'alto troviamo il tasto di accensione e poi lo sportellino in gomma impermeabile che ci permette di ricaricare la batteria e questa è la parte alta da cui viene emesso il fascio luminoso con il vetro che viene protetto da questa sporgenza quindi nel caso in cui dovesse cadere non urterebbe direttamente sul vetro ma verrebbe protetto appunto da questa sporgenza anche in questo caso e zigrinato però non ho trovato alcuna funzione quindi serve semplicemente come antiscivolo quindi l'unico tasto di accensione abbiamo detto che è questo nella parte bassa non troviamo nulla è piatta e questo ci permette di utilizzarla in modalità candela quindi puntare il fascio luminoso sul tetto in modo che si diffonda in modo omogeneo all'interno della stanza è sempre sulla parte bassa troviamo anche un loccetto per assicurarla al nostro polso allora guardiamo prima le caratteristiche tecniche da questo libretto che scritto anche in italiano devo dire pure che è scritto abbastanza bene quindi le varie modalità l'intensità luminosa e la durata nella modalità strobo avremo 2100 lumen identica alla modalità turbo ma non è specificata nella durata né altro invece in modalità turbo avremo 2100 lumen per un'ora e otto e raggiungeremo 683 metri di distanza in modalità alta avremo 1000 lumen per due ore e 25 raggiungeremo 501 metri in modalità media avremo 320 lumen per una durata di cinque ore e mezzo raggiungeremo 267 metri in modalità bassa 30 lumen ben 41 ore di durata e raggiungeremo solo 89 metri in modalità luna quindi chiarore di luna proprio una luce appena accennata e metterà un solo lumen quindi sarà sufficiente per esempio per leggere all'interno della nostra vettura in una tenda per guardare da vicino oppure per fare segnari luminosi e la durata sarà superiore a 400 ore adesso guardiamo anche il suo funzionamento quindi si accende semplicemente premendo il tastino nella parte frontale come vedete adesso abbiamo acceso alla modalità più bassa ma per aumentare la sua modalità basterà mantenere premuto il tastino e in questa modalità di funzionamento aumenterà in modo graduale ok la cosa che mi piace di questa torcia rispetto a tante altre è che sia ad aumentare che a diminuire quando raggiunge il massimo o il minimo della sua luminosità si ferma invece un'altra torcia riscontrato che raggiungendo la massima luminosità ricomincia ciclicamente ad aumentare e diminuire quindi ci costringe a staccare in tempo per poter avere la luminosità massima questa invece fa tutto da sola allora abbiamo anche diverse funzioni quindi premendo due volte per esempio possiamo andare direttamente in modalità turbo premendo tre volte avremo la modalità strobo possiamo anche cambiare modalità mentre accesa possiamo premere quattro volte il tastino di accensione ok si è accesa e a questo punto possiamo aumentare a step molto più comodo per chi vuole delle potenze già preimpostate senza dover tenere premuto fino al raggiungimento della luminosità preferita sono entrambe comode però si può preferire o una o l'altra possiamo anche bloccare il tastino di accensione per evitare che si accenda involontariamente quindi compressione occidentali dello stesso mentre spenta basterà premere quattro volte il tasto come abbiamo fatto per cambiare modalità ma in questo caso bloccheremo lo stesso quindi uno due tre e quattro lampeggerà e quindi ci confermerà del blocco tasti in questo caso emetterà un lampeggio per ricordarci che la torcia e carica funziona ma dobbiamo premerlo quattro volte per sbloccarla uno due tre e quattro ok quindi la ritroviamo direttamente in modalità massima l'ultima modalità che abbiamo utilizzato quindi adesso guardiamo altre caratteristiche riportate nel manuale di istruzioni troviamo un emettore con un led luminous sf t 40 con una durata di vita fino a ben 50 mila ore va caricata con un caricabatterie usb va bene anche quello di un caricabatterie di un cellulare le dimensioni sono 136 mm x 42 mm di diametro pesa 120 grammi senza batteria il corpo della torcia in lega di alluminio 60 61 di tipo aereo spaziale fabbricazione in cnc si tratta di alluminio anodizzato con un anodizzazione dura con specifica militare di tipo 3 finitura anti abrasione per ottenere un corpo con costruzione solida geometria anti rottura e con un migliore scambio di calore il tipo di ottica utilizzata è una lente tir in plastica da 5 gradi ed il vetro protettivo è in minerale rinforzato resistente graffi e all'usura resistente anche all'acqua quindi una protezione ipx8 che ci consente di immergerla fino a ben due metri di profondità modalità memoria come abbiamo visto quindi memorizza l'ultima modalità in cui l'abbiamo utilizzata riaccendendola si riaccenderà appunto con quell' impostazione anche l'elettronica all'interno è protetta contro l'inversione di polarità quindi se mettiamo la batteria al contrario non accade nulla e il tasto di accensione nasconde un led che ci indica il livello di carica della batteria in base alla velocità con cui lampeggia dovremo andare a ricaricare la batteria perché il voltaggio potrebbe essere troppo basso e a protezione della scarica eccessiva della batteria quindi per evitare che vada sotto soia quando la batteria sarà troppo scarica la torcia si spegnerà in automatico consentendoci anche di salvaguardare la batteria anche una protezione atr quindi una protezione automatica di regolazione della temperatura per evitare che la temperatura danneggi la stessa o danneggi qualcosa con cui venga a contatto ed è limitata a 55 gradi centigradi e nel manuale di istruzione troviamo anche diverse indicazioni diversi consigli riguardo l'utilizzo e le istruzioni per poter cambiare tutte le modalità come vi ho fatto vedere passaggio tra modalità 1 modalità 2 regolazione della potenza e anche l'attivazione dello strobo eccetera ma ora viste queste caratteristiche andiamo direttamente in esterno e guardiamo la sua luminosità ragazzi rimarrete sbalorditi della potenza di questa torcia costa 40 euro ma si comporta come una torcia molto più costosa e allora ragazzi essendo una torcia la profondità facciamo una prova direttamente con l'hotel abbandonato poi farò anche la prova con la struttura ancora in fase di costruzione e vediamo quindi come si comporta nel suo campo ideale guardate davvero eccezionale guardate la riusciamo a illuminare pure in basso quindi grande angolare vedete come la luce si diffonde anche lateralmente e come riusciamo di illuminare anche da lontano guardate facciamo uno zoom cosa che in realtà non ho mai fatto casomai dalla prossima volta in poi farò anche questo zoom così è spenta così accesa e si vede tutto benissimo guardate anche il fascio luminoso verso l'alto ragazzi fantastica proviamo ora a diminuire e poi ad aumentare di nuovo ok ovviamente al minimo non si vede nulla aumentiamo nevo al massimo spettacolare e allora ragazzi guardate solito edificio ancora in costruzione non si vede quasi nulla guardate so film è davvero scioccante tutte le torce che ho provato finora hanno una potenza incredibile guardate come riusciamo di illuminare quindi zoomiamo si vede tutto benissimo spegniamo e riaccendiamo guardate la differenza davvero qualcosa di incredibile facciamo un'altra prova in uno spazio aperto cercherò poi se mi riesce tramite google maps su richiesta di un paio di voi di cercare di indicarvi poi le distanze esatte quindi proviamo a illuminare quegli edifici la in fondo guardate riusciamo ad arrivare molto bene a quelle case sono dei palazzi una sorta di cooperativa insomma delle case dei palazzi vicini fra di loro e anche quel palazzo in fondo guardate anche questo edificio che è un po più vicino anche se più piccolo ma da palazzi sono in fondo secondo me a occhio saremo 4 500 metri guardate come riesce di illuminare molto bene illuminiamo un po il cielo e stacchiamo dai da qua da quest'angolo abbiamo illuminato questo edificio poi vedrò eventualmente tramite google maps di cercare di capire esattamente quanta distanza ci sia e allora ragazzi quindi cosa dire di questa torcia tattica questa sua firme i f 22 a è davvero molto potente ci permette di illuminare con 2100 lumen e di arrivare a distanze considerevoli vi farò vedere questa volta sul richiesta di qualcuno di voi la distanza utilizzando il gps riuscirete a capire comunque la sua potenza avete visto comunque come illumina a un fascio luminoso che si concentra ovviamente più verso la zona centrale più questa diffusione laterale che ci permette di vedere anche in modo grandangolare cosa dire per la cifra sicuramente conviene ma anche se costasse di più secondo me converrebbe perché illumina bene e devo dire sinceramente è fatta bene a conferma dicendo da leggere commenti negli altri video e se la comprate per favore andate giù nel video scrivete anche la vostra le vostre opinioni e vostri pareri dopo averla provata detto questo non mi resta che ringraziarvi di avrei visto questo video fino in fondo cliccate qua giù sul tastino mi piace del video vi è piaciuto cliccate anche sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto